Salve a tutti ragazzi e siamo in questo nuovo video, sono Pepe Joe Gamers e siamo su Minecraft Allora ragazzi, come avete notato termospada, piccone e tutto di pietra, di pietra, di come cavolo si chiama, voi vi chiederete perché, e beh perché in telecamera spenta ho incominciato a fare un po' di lavoro così E adesso vorrei incominciare la nostra esplorazione Incominciamo la nostra esplorazione Possiamo partire Un attimo Allora ragazzi, come perché mi avete scritto nei consigli dell'esplorazione e quindi, beh che dire, noi la faremo Allora, se incominciamo a continuare per di qua Comunque ricordiamoci sempre che il nostro villaggio è lì E il nostro punto di riferimento sarà un cavolo Allora, no, non ti spaccare le ossa Ragazzi, una cosa Mi sono scordato di far partire il video con il cronometro acceso Quindi non so quando il video finisca o quando... o no Quindi scusate la quindici Diciamo che abbiamo incominciato da... Quindi diciamo se dobbiamo fare quindici minuti Essere dieci Quindici, venti... Ah, venticinque dobbiamo staccare Diciamo un po' stacchiamo a ventitré Raga Dai, no Che fortuna Abbiamo trovato il castello di sabbia subito Dai Dai, bellissimo Allora, raga Sì, non so se ve lo sapete Ma io mi sono attrezzato bene E quindi direi di vedere se... Loro tengono qualche... Qualche prezzo buono Se tipo tengono qualcosa di importante Direi di portarcelo Però non vedo niente di interessante Però, raga, cioè... Ci hanno costruito questo cavolo di castello Perché lo sfruttano Allora, raga, io direi di salirci E non direi subito di andare al trabocchetto Che conosco io Ma di girarcelo un po' Lo facciamo in questo modo E ce lo saliamo Adesso, raga Qui sotto ci dovrebbe essere... Qualcosa... Vediamo un po' qui... No, vabbè Qui non c'è niente Allora, ragazzi Io incomincio a levare qui Allora, adesso, raga Cerchiamo di non prendere qualcosa Sennò esplode tutto Lo dico Qui esplodiamo Allora, come andiamo adesso? Allora, quindi direi di scendere In questo modo Guardate Facciamoci No, con calma Cavolo, 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 cavolo No No Dai, non ci credo Siamo esplosi Vabbè, raga Era abbastanza difficile Guardate quanto cavolo è la mia energia Qui se era un altro po' morivamo Fortunatamente che avevo messo un blocco in più Sennò eravamo esplosi Totalmente Però, raga Che ci fa il villico? C'era un villico? Oh Che diavolo era? Aspettate, raga Ho visto qualcosa di strano Boh No, non c'è niente Allora, ragazzi Abbiamo sbagliato Abbiamo sbagliato Porca vacca Vabbè, raga Continuiamo il nostro viaggio Senza fare un cavolo Perché non possiamo correre Struiamo tipo qualche animale Sì, quel genere Ci prendiamo la cosa da mangiare Perché Guardate, non mi sono proprio fornito con il mangiare E... Non prendiamo ancora tempo Via Non c'è da niente Non ci da niente Via tu Via tu E ci dai un pezzo di carne E... Via tu E ci dai un altro pezzo di carne Manzo crudo Ma Mi devi mettere questi qua qui E ci dai questo Ti lo metti qua Aspettate No No, no Perché non ci finisce Aspetta Ciotola Perché il mio ciotolo Si è trasformato in pesciolino D'argento Che cazzo è successo Raga Perché il mio ciotolo Si è trasformato Nel ciotolo Pesciolino D'argento No Non ci credo Veramente Non può essere Raga Si può essere Può essere Può essere Non ci credo Il nostro ciotolo Si è trasformato No Ma come diafolo Ma che schifo Sto ciotolo Di merda C'è raga Il nostro ciotolo Si è trasformato Nel ciotolo Che c'è D'argento Ma non tu sei ciotolo normale Si Beh Mi prendo un po' Del tuo ciotolo Non ti dispiacere Che ti rompo Un po' Qui Cavolo raga Dai non ci credo Cioè 3.000 anni Solo per prendere Tutto quel ciotolo Ah Non ci credo Ma che diavolo Questo significa Che roba Esisterà Che roba Esiste Cioè raga È impossibile Cioè E ho fatto tutto Quel ciotolo Andate in frantumi Prendere Prendete conto No 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 Non ci pensare Neanche Mentre Muori Non ci pensare Neanche Mentre Muori Non Ci Pensare Non possiamo Raga Perdere Tutto quel bene Ti prego Non Scomparire Andiamo 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 Cavolo Che cazzo Un creeper Quei creeper Quanti creeper Quanti creeper Ma Vaffanculo Cioè Che cazzo Fai qua Raga Direi di avviarci Soltanto Su Comunque L'on L'on Che Tenevamo Vecchio Dice Cioè Non ci posso Credere Abbiamo perso Tutte Quelle Tosce Che ci Ho messo Tre milani Per fare Cioè Raga Se io Mettevo A fare Un video Che Dovevo Prendere Tutte Quelle cose Diciamo Che In dieci Parti In dieci Video Di Quindici Minuti Cioè Neanche Io ce la Facevo In dieci Video Cioè Raga In due Giorni Due Giorni Sono Stato Dalla Mattina Alla Sera A Trovare Sti Cazzo Tutte Ste Cose E Boh Non ci Credo Siamo Esplosi Siamo Esplosi Siamo Morti Con Quel Cazzo Di Scheletro Va bene Era neanche Accorto Che Tenevamo Così Poca Vida Va bene Ragazzi No 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 Non ci Uccidere Ti Prego Mi ha Conficcato Proprio Nella Bocca Nell'occhio Quanti Scheletri Ragazzi Nuovo Soprano Per il nostro Mondo Mondo Scheletro Cioè Allora Dove Troverò Eccolo Eccolo Il villaggio Ecco Il villaggio Ecco Il villaggio Ecco Ecco Il villaggio Moviamoci 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 E Morici Male Dammi Un po' Di carne Che mi serve Dammi La carne Che mi serve Dammi La carne Che mi serve Via Scheletro 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 Via Via Sali 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 Via Via Eccolo Lì No Dove Cavolo Siamo morti Dall'altra Parte Dall'altra Parte Dall'altra Parte Via 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 Non possiamo Per tutte Quelle cose Speriamo Che li ritroviamo No 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 Sì 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 Morici male Morici 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 Mori Mori Ah Bene Bene Sembrava Fossi Tutta Finita In realtà Siamo Giornati Adesso Vediamo Quanta parte Di mappa Abbiamo Sbloccato Beh Un bel po' Però Dovremmo Sbloccare Tutto il mondo Raga Allora Adesso Continuiamo Ad andare Mi ricordo Di mettere Il volume A scelto Un miliardo Ciao E Quanti cavolo Ne sono Quanti ce ne sono Ragazzi Spero Che Questo Video Di minecraft Vi sia piaciuto Lasciate Un Bellissimo Like Iscrivetevi Al canale Commentare Contate Condividetevelo Condividetevelo Dove su facebook Dove volete Se non Avete ancora Condiviso niente Comunque ripeto Iscrivetevi Se volete Iscrivervi Per Seguire Il nostro Per seguire Il canale E Da Pepe Joe Gamers Non è ancora Tutto Arriviamo a casa Un attimo Un attimo Un attimo Un attimo Assassin's Creed No 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 Ok Vedi qua Via 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 Ok Raga Da Pepe Joe Gamers È tutto Per questo Video Al prossimo Al prossimo Video Un attimo Un attimo Timo Timo Timo